abbiamo parlato di san clemente papa e molto probabilmente martire nei tempi eroici del primi secoli cristiani questo fu un sito che possiamo definire in qualche modo terra di martiri e questo diciamo fa inteso per tutta la nostra contrada aquilana san massimo santa giusta e quindi è terra diciamo che ha conosciuto la testimonianza dei martiri qui vicino a poche centinaia di metri c'è una via che nel dialetto locale si chiama via santire e che è senz'altro la forma dialettizzata e contratta della espressione latina sancti viri uomini santi ci fu un colto parroco di assergi preposto come si diceva allora tale don nicola tomei che consapevole di questa tradizione come dire catacombale promosse uno scavo a cui poi dopo non si ebbe seguito forse per mancanza di mezzi la chiesetta di san clemente ha avuto fasi alterne è stata più volte restaurata e da ultimo fu restaurata alla fine del settecento con il contributo e l'opera gratuita di un certo forgione che forse doveva alla chiesa un debito questo forgione era sicuramente un muratore di assergi e è un personaggio assai originale pare sia stato ufficiale nel l'esercito borbonico e condannato per un reato grave andò a chiedere la grazia a napoli presso il re portando in regalo una gigantesca forma di formaggio